Il punto è, il governo è in grado di governare? Mi pare di no. Un governo diverso dopo il 26 maggio. Se i numeri saranno dalla parte di Lega e Fratelli d'Italia, allora anche sì. E senza i 5 stelle, le parole della leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi a Trieste per il tour delle candidature alle europee, arrivano da una posizione mista tra la polemica politica e la speranza di un cambiamento. E lo ha ripetuto in conferenza stampa, cambiare il governo del cambiamento, dove ora come ora si gioca anche con un po' di tattica. C'è anche molta tattica in questo loro scontro quotidiano, anche se non penso che paghi. Però alle grandi domande non stanno rispondendo. Guardi il fatto delle clausole di salvaguardia. Il governo ancora non è stato capace di dire se l'IVA aumenterà oppure no. E io su questo voglio delle risposte. Credo che un governo giusto darebbe queste risposte prima del voto del 26 maggio, perché così la gente può votare con consapevolezza e cognizione di causa. Quindi l'Europa tema il centro dell'incontro di oggi con i candidati regionali Ciriani e Manzan, a cui poi si sono allacciati argomenti locali. La rotta balcanica è il rischio che Friuli Venezia Giulia diventi la Lampedusa del Nord, l'economia, le tasse, la concorrenza trasfrontaliera, l'edilizia sociale. Friuli Venezia Giulia rischia di diventare la Lampedusa del Nord e nessuno parla di quello che sta accadendo sul nostro confine orientale, su quello che accade con gli immigrati che arrivano dalla rotta balcanica. Tra l'altro l'Italia ha speso 230 milioni di euro, che in teoria sono stati dati alla Turchia di Erdogan, che avrebbe dovuto fermare il flusso degli immigrati che arrivavano da est, evidentemente la Turchia non sta facendo bene il suo lavoro. Chiediamo al governo di avere attenzione per questo territorio, crediamo che con la polizia di frontiera ci debba stare l'esercito sul confine, crediamo anche che si dovrebbe lavorare a pattuglie miste anche con la polizia slovenna. Noi abbiamo un modello alternativo di Europa, una confederazione di stati sovrani, in cui vengono rispettati i diritti delle persone e gli interessi nazionali di tutti gli stati membri. Ma certo, se dalle elezioni europee dovesse uscire una maggioranza alternativa, come è accaduto in molte regioni nelle quali si è votato, in cui si è dimostrato che crescevano solo la Lega e Fratelli d'Italia, e questi due partiti potevano già da soli rappresentare una maggioranza alternativa, penso che se sarà confermato dalle elezioni europee, ognuno dovrà farci i conti e magari si riuscirà a fare un governo senza 5 Stelle. Presente anche l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, rientrato con i Fratelli d'Italia, che si è speso in elogi verso la protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'operato nelle zone colpite del terremoto.